La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di Piero Aiello, ex assessore regionale della Calabria e oggi parlamentare del nuovo centrodestra, e dell'avvocato Giovanni Scaramuzzino, nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo calabrese, sfociata nel luglio del 2013 attraverso la Maxi Operazione Perseo, diretta dalla Polizia contro il clan Giampà di Lamezia Terme. Il sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, Elio Romano, ha chiesto che i due vengano mandati sotto processo sulla scorta di elementi accusatori, in base ai quali ad Aiello è stata contestata la corruzione elettorale, perché, secondo le ipotesi degli investigatori, il parlamentare avrebbe inquinato il voto delle regionali del 2010. La tornata elettorale che si concluse con la vittoria scacciante del candidato della centrodestra Giuseppe Scopelliti, ed in cui il senatore raccolse complessivamente oltre 10.000 preferenze, risultando il sesto tra gli eletti nel PDL. In particolare Aiello, sempre stando all'ipotesi d'accusa, in concorso con l'avvocato Giovanni Scaramuzzino, al quale è contestata anche l'aggravante del metodo mafioso, avrebbe stretto contatti con il boss, ora collaboratore di giustizia Giuseppe Giampà, ottenendo sostegno dalle cosche. Aiello, secondo l'accusa, in cambio di voti avrebbe promesso di mettersi a disposizione in occasione dell'affidamento di appalti per la fornitura di materiale. Accuse, quelle formulate dalla DDA, che si basano anche e soprattutto sulle dichiarazioni dei pentiti Saverio Cappello e Giuseppe Giampà, da cui, sempre stando alla tesi degli inquirenti, si evincerebbe che il parlamentare avrebbe partecipato attivamente al progetto di chiedere ed ottenere voti in cambio di utilità, in vista delle consultazioni elettorali regionali, poco prima che queste si svolgessero. Accuse, in base alle quali la Procura aveva inizialmente chiesto la custodia cautelare ai domiciliari per Aiello, che però il giudice per le indagini preliminari, Mellace, negò. Di qui il ricorso della DDA al Tribunale del Riesame, che il 3 dicembre 2013 lo respinse. I PM non si fermarono e andarono in Cassazione, dove ottennero un annullamento con il rinvio della pronuncia del Collegio Catanzarese, dove tutto tornò per nuova discussione, cui tuttavia seguì un nuovo no alla misura cautelare per il parlamentare.